buongiorno ragazze bentornati in un nuovo video partiamo il nostro video già in tarda mattinata perché sono andata in palestra stamattina finalmente abbiamo ripreso con la palestra comunque sono andata a fare una piccola piccola spesa anche cose di detersivo al mistery sparm e niente adesso vi faccio vedere molto velocemente che cosa ho preso comunque l'altro giorno qui ha fatto brutto tempo diciamo che si è sentita un po di autunno e adesso di nuovo diciamo temperature non così elevate però diciamo che si sta benissimo e niente ora metto sul pranzo oggi faccio preparo riso con le lenticchie e quindi e quindi farò questo qua per pranzo iniziamo a mangiare un po più leggeri speriamo di riuscirci anche visto che ho iniziato un po la palestra e speriamo bene dai che qua è veramente difficile fare una dieta cioè di uno deve starci anche con la testa e niente quindi quindi questo allora ragazze sono andata a fare un pochino di spesa al pam ho preso il granarolo di soia questo qua è ottimo per fare anche la spiuma poi ho preso un po di salame un po di prosciutto cotto per i bambini per fare i vari panini l'altro dove fa eccolo qua un po di cotto un po di salame in offerta c'erano le kindercarts a 1,50 euro mi sembra una cosa del genere e poi ho preso due bottiglie di te che anche queste erano in offerta mi sembra a 79 centesimi questo al pam ah no anche un'altra cosina che cosa c'è qua ah anche questo era in offerta 1,79 euro il davo questo qua è il mio preferito profumatissimo e poi al mister risparmio sono andata perché mi era finita la candeggina e tutto poi ho visto alcune cosine per fare tipo degli aperitivi tipo questi mini brettel salatini aceto balsamico poi c'erano anche i succhi ho preso questi qua della yoga sia alla pesca che alla pera così contentiamo tutti aspettate mi sono fatta male l'unghia quindi un po' di difficoltà poi ho preso le cipolline queste qua piccoline ottime ho visto queste qui per la prima volta non le avevo mai notate del brand guglion è una cosa del genere guglion spagnolo comunque i pesciolini questi quattro sono sempre buoni ahia uso l'altra mano per meglio poi ho preso il pane il filone ho preso dei calzini per cristian della fila molto carini sono freschi poi il taglia cuticole perché appunto mi mancava per fare la ricostruzione tutto manicure spugne di ricambio queste qua sono le migliori utilizzo sempre questa della rileida e poi l'ultima cosina no l'ultima contiene in questa busta volevo dire no non è vero? eh eh guardate paziente comunque le salviettine queste qui le veline e poi anche il pettine perché a casa mia spariscono sempre i pettini quando fanno le piastre avanti e chi dietro quindi quando serve a me non c'è mai il pettine e poi le ultime cosine le ho messe qui perché stava rompendo la busta ho preso sia questo qui il detersivo della Chanteclair profumo di martiglia 40 lavaggi mi sembra 3,99 euro poi ho preso un po' di doccia schiuma che abbiamo terminato quasi tutto ho preso questo qui che è buono della Dermomed Dermomed ha il latte di mandorla che c'è troppo il profumo di mandorla poi ne ho preso un altro della Neutro Robert sempre alla mandorla questo qui tra l'altro non l'ho nemmeno sentito molto delicato buono poi candeggina non c'era l'acee gentile non so perché c'era solo questa però faccio dovere anche se non è la mia preferita devo dire però appena uscirà l'offerta al Kona corro a prenderla poi ho preso arrivo eh con una mano poi la destra e su un mancino ho preso il finish questo gel per la lavastoviglie la lavastoviglie 30 lavaggi sembra 3,99 euro una cosa del genere tiro fuori la busta così e poi ho preso questo come si chiamano questi dischi per il tavolette vc insomma disco per il bagno davanti perché io il bagno quelli là un po' più moderni non hanno il posto per mettere l'appoggio della tavoletta quindi per forza questi qui e ho preso questa profumazione qua first kissed flower non ho mai provato questo devo dire poi ho preso questo sempre il latte di mandorla e gelzomi no bicarbonato e il latte di mandorla è troppo buono questo qua al rio piatti ogni tanto lo ricompro e poi lo shampoo della lore quello mio lilla non c'era c'era solo il basso ma l'ho preso l'altro giorno mi serve lo shampoo mi serviva ho preso questo qua vi farò sapere ma mi sembra di averlo già preso ma il migliore è quello la lilla provateli che sono top niente questa era la spesa poi acqua eccetera eccetera no 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.